Ciao a tutti bentornati in un nuovo video Oggi vi faccio questa ricetta che ho deciso di farvi il video adesso mentre stavo già preparando perché comunque come sapete ultimamente mio marito va spesso ai funghi li trovo fortunatamente quindi ho spesso e volentieri questi funghi da cucinare allora cerco di cambiare sempre la ricettina questa volta vi propongo un bel risottino, salsiccia, funghi e zafferano ho iniziato già col preparare il brodo vegetale sto facendo soffriggere la cipolla con un po' di burro e un pochino di olio adesso aggiungo la salsiccia, dopodiché subito i funghi una volta aggiunti i funghi facciamo appassire per bene il tutto io non aggiungo sale perché quando faccio il brodo vegetale lo salo e poi comunque abbiamo anche la salsiccia che comunque dà sapore facciamo appassire chi gradisce può sfumare con un pochino di vino bianco e poi faremo il passaggio della tostatura del riso ho messo il riso a tostare ho già qualche minuto che lo sto facendo tostare e adesso iniziamo la cottura quindi con il nostro brodo bello caldo mettiamo intanto metà brodo e facciamo cucinare lo lo abbasso perché è ancora bollente quindi bolle facciamo cucinare poi quando siamo verso la fine della cottura andrò ad aggiungere lo zafferano sono quasi arrivata a cottura allora ho riaggiunto un goccino di brodo e ho messo anche la bustina di zafferano infatti piano piano sta colorando volendo ce ne possono andare anche due perché questa che c'ho io è veramente piccola però va bene così non voglio sovrastare troppo i sapori e poi una volta che il mio risotto sarà praticamente pronto andrò a mantecarlo con un pochino di parmigiano e un pezzettino di brie voi potete scegliere o il burro o un formaggio che vi aggrada quindi ci vediamo col piattino finito questo è il risultato finale quindi ricapitolando abbiamo fatto risotto, salsiccia, funghi, zafferano e mantecato con il brie spero che questa ricettina vi sia piaciuta e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao